Il punto della caduta è in un tratto rettilineo lungo la discesa di Cancano se lo ricorda bene, ma Alessio Martinelli guarda avanti e ha già nel mirino la prossima stagione. Il 19enne di Premadio di Val di Dentro, medaglia d'argento ai mondiali juniores su strada del 2019, dopo il brutto incidente di quest'estate, il recupero a tempo record dell'esame di maturità all'Istituto Pinchetti di Tirano, ha dovuto fare i conti con i postumi di quel grave trauma che l'hanno costretto a interrompere la stagione. Mi sembrava di essere subito guarito, neanche dopo una settimana che ero in ospedale, ma ho capito che è molto più difficile guarire di quello che si pensa, perché le complicanze all'interno del corpo sono maggiori di quello che sono realmente, quindi ho dovuto fare un bel periodo di stop dopo gli esami, i quali sono andati veramente bene, sono uscito con un bel voto e adesso mi sto preparando per la prossima stagione, ho gli occhi puntati già su alcuni obiettivi, alcune gare importanti e speriamo di riuscire a tornare in forma per il prossimo anno. Tra gli obiettivi principali il Giro Under 23, cui quest'estate ha dovuto rinunciare. Intanto Alessio si allena e non trascura lo studio. Dopo il diploma si è iscritto al corso di laurea in Scienze dell'Alimentazione e Gastronomia all'Università San Raffaele di Milano. Adesso sto iniziando a studiare le prime materie e i primi esami saranno fissati per gennaio e febbraio, quindi non vedo l'ora di iniziare gli esami e speriamo di andare bene anche su quel fronte. Intanto ti alleni sulle strade di casa, proprio su queste salite che tra pochi giorni vedranno arrivare il Giro. Sì, poche settimane fa ho parlato con il mio allenatore per la preparazione invernale. Adesso stiamo facendo uno stacco con la mountain bike e alcune camminate, ma sicuramente non potrò mancare giovedì prossimo a Cancano, dove ci sarà l'arrivo della tappa del Giro d'Italia. Io sarò proprio dove c'è l'arrivo e speriamo che si decida il Giro d'Italia, vedere qualcuno forte, magari anche italiano, speriamo a ottenere un ottimo risultato.